Test audio. Per quelli che sono appena arrivati c'è ancora un posto. Grazie. 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 Scusate, ritardo. Spero che mi riescano a sentire anche quelli in live stream. Buon pomeriggio, buonasera. È un piacere darvi il benvenuto alla House of Switzerland per questo evento Trends in Artificial Intelligence. Io sono Sirila e vi do il benvenuto in nome del Swiss Business Hub Italy. Il suo direttore è qua con noi e darà via l'evento breve. House of Switzerland, come avete sicuramente già visto, presenta una Svizzera moderna, innovativa e tecnologica e dà spazio a nuove conversazioni e nuove collaborazioni fra Svizzera e Italia. Beh, allora cos'è che succede nel settore dell'intelligenza artificiale? Quali sono i sviluppi concreti che continuano a posizionare la Svizzera come un centro importante per questo settore? Beh, per aiutare a rispondere a queste domande abbiamo il piacere di dare il benvenuto al dottor Gilles Dumoulin e professore Andrea Rizzoli. Dr. Dumoulin will be presenting in English, so I'm just switching to English for a moment. He is Technology Transfer Officer at the EDIAP Research Institute, a renowned research foundation located in the canton of Valle, and it benefits from strong connections with universities and direct relations between researchers and companies. We look forward to hearing from you shortly. Con noi stasera abbiamo anche il professore Andrea Rizzoli, direttore della IDSIA, istituto dalle molle, leader globale nella ricerca sull'intelligenza artificiale, fondata a Lugano. Grazie di essere qua con noi. Avrete modo di interagire con gli speaker più tardi, perché faremo un piccolo aperitivo. Ringrazio gli organizzatori, Stefan Zwicki e Annalisa Ziliani. Passo a te la parola, Stefan. Grazie. Buonasera a tutti. Sono Stefan Zwicki, il responsabile del nostro Swiss Business App in Italia. Un piacere avervi qua questa sera. Come Siri l'ha già detto, abbiamo una bellissima piattaforma qui attiva dal 26 aprile, dove incontrarsi di nuovo, dove parlare di Svizzera, dove soprattutto parlare anche di tematiche 360 gradi. Quindi in questa direzione abbiamo parlato di società, abbiamo parlato di innovazione, di economia, di cultura. Un'ottima iniziativa per incontrare i nostri amici, i partner italiani, e parlare di queste virtù della Svizzera, tra cui anche fare squadra sulle tematiche importanti. Questa house è nata in sostanza grazie alle collaborazioni, grazie a questo team-up tra Presenza Svizzera, Switzerland Global Enterprise, Proelvezia e altri protagonisti che forniscono in sostanza questi contenuti. In questa direzione vorrei parlarvi piuttosto un attimo anche di questo contesto, fare impresa in Svizzera. Cosa vuole dire? Perché l'impresa, un contesto, è sempre punto di partenza anche per il nostro successo. Avere un contesto che sia favorevole, che riesce a darci sostegno e realizzare i nostri progetti senza grande burocrazia o costi che non hanno un valore aggiunto. In questa direzione, credo, la Svizzera può ovviamente proporsi anche con degli argomenti molto concreti. E questi argomenti si inseriscono nella dimensione dove parliamo di un'espansione, non parliamo di delocalizzazione, che comunque aveva sempre una connotazione un po' negativa. Quindi la Svizzera, essendo così vicina, offre anche la possibilità di espandere e non di sradicarsi. Un'azienda di solito rimane perfettamente, in vostro caso, italiana, perché spesso siamo già attivi anche in questo mercato. I drivers concreti che vi voglio far vedere, soprattutto nella luce anche dell'intelligenza artificiale, cosa può dare una spinta al nostro progetto? Sicuramente in ogni progetto punto di partenza è il mercato interno, il mercato domestico. Qui la Svizzera, immaginiamoci, è il quarto partner dell'Italia, cioè l'export italiano, made in Italy, ad avere un mercato enorme in Svizzera, ma non è per il volume dei consumatori, piuttosto per il potere d'acquisto e anche la media dei prezzi, ovviamente. Quindi questo è il punto di partenza per progetti anche nell'intelligenza artificiale, che sicuramente va accompagnato, penso, di un altro punto di cui non parliamo abbastanza, perché anche questo punto aveva una connotazione un po' delicata, la fiscalità. La Svizzera è in regola, completamente in regola con tutti i standard internazionali, e quindi credo che anche una fiscalità competitiva può dare un sostegno al nostro progetto, può risparmiare costi e soprattutto consente di detrarre tutto questo che investo in innovazione, i costi che ho per fare impresa anche, quindi di essere molto più competitivo anche non avendo questi costi, una base di costi più snella. Un elemento ancora in più, forse anche il mercato di lavoro, parliamo di talenti, parliamo di accademia, quindi abbiamo questo profilo molto alto di collaboratori che poi decidono anche sul nostro successo, quindi avere un talent pool che da una parte consente anche all'individuo di avere una elevata qualità di vita, lì c'entra anche l'imposizione delle persone fisiche, perché questo sì che questi talenti cercano, è altrettanto avere le normative che consentono una certa flessibilità, quindi io come imprenditore posso muovermi con i mercati quando ho bisogno e quando non ho bisogno di queste risorse, quindi questa flessibilità che consente andare anche con le oscillazioni che spesso ci sono nel fare impresa. Ultimo punto del contesto che forse metterei dentro è sicurezza ai investitori, sicurezza per quel che riguarda il nostro patrimonio aziendale. Importante anche lì avere una valuta forte come il franco, perché abbiamo visto cosa succede sui mercati monetari anche dove si vede vaporizzare molto velocemente il patrimonio aziendale senza questa stabilità. e questa stabilità è altrettanto il punto di partenza per gli investitori, attrarre investitori, gli investitori investono in aziende che sono in Svizzera perché hanno questa prevedibilità, hanno questo quadro della stabilità e della sicurezza. Andiamo però piuttosto una volta un po' più nel settore, nelle dinamiche del settore stesso e qui credo, l'importante è sapere, non è un hype, qualcosa che abbiamo già visto su altre tematiche come le criptovalute, gli ICO, che sono venuti su a un certo punto anche con cifre di crescita molto elevate, però allo stesso tempo hanno subito una flessione altrettanto di impatto. L'intelligenza artificiale è forse piuttosto un settore che si evolve gradualmente con buoni numeri, cioè crescita, tassi di crescita tra il 10-15% che ci fa capire che siamo di fronte a un fenomeno molto più sostenibile, un fenomeno che poi non avrà fra un anno una flessione perché è solo stato appunto un hype che è stato un buzzword che forse non ha dietro niente. E se guardiamo più in dettaglio il paesaggio, c'è questa slide del DKA che trovo molto impattante. Ora per capire, questo snapshot del 2021, dell'ultimo trimestre, abbiamo la torta col cerchio interno che rappresenta in sostanza tutti gli istituti che fanno ricerca e sviluppo. Sono degli istituti, ma possono essere anche degli app di ricerca di soggetti privati. Ma è sempre il cuore, quindi il cuore del settore stesso che consente questa ricerca e lo sviluppo. Il secondo cerchio poi sono gli investitori, perché senza gli investitori difficilmente spicchiamo il volo. E qui di investitori ne abbiamo tanti. Non parliamo solo di venture capital, ci sono gli aspetti di equity dentro, ma ci sono anche i grandi protagonisti industriali, per esempio la Swisscom o altri giganti, che comunque investono e investono anche in start-up, che hanno delle tecnologie, delle idee e dei concetti con molte potenzialità. L'ultimo cerchio poi sono le aziende, aziende di tutti i settori. Vediamo la fetta più grande attualmente in Svizzera è l'analitica. L'analitica perché abbiamo una mole di dati, abbiamo tutti questa necessità di essere più veloci nella complessità, per forse servire invece di 50 clienti, vorremmo servire 100 clienti. E quindi questo settore rappresenta, almeno ancora al momento, quello con più fermento, anche con più aziende. Mentre, e questo è anche forse un po' una sorpresa, se vediamo il fintech, se vediamo anche l'eltech, relativamente piccola. Però credo che questo allo stesso tempo vuole anche dire potenziale, potenziale che verrà e che forse a questo punto non è ancora completamente esaurito. Se guardiamo un attimo il cerchio interno, quali sono gli istituti che sono i più rilevanti, che sono anche storicamente in questo settore? Qui con noi stasera abbiamo due relatori, da una parte dell'Izia, l'Istituto dalle Molle e dal Ticino, d'altronde dall'Idiab, dal Vallese. Questi due relatori ci spiegano un po' come è nato il tutto, da dove veniamo e dove va soprattutto anche il settore. Key figures, che penso che fanno un po' capire anche che non sono parole vuote, che c'è davvero tanto sostanza dietro, ci sono tanti primati anche dietro. Se parliamo per esempio degli investimenti, questi primi due primati, se vogliamo così, dieci start-up più finanziati si trovano in Svizzera, tra cui per esempio la Sofia Genetics, hanno raccimolato, se posso dire così, più di 140 milioni in questi anni, sono presenti a Boston e in Svizzera. è un ottimo esempio anche che con questo concetto, con l'idea alla base, hanno trovato gli investitori che hanno creduto in questa loro idea di fare impresa. E anche la Svizzera, che di solito è molto più tradizionale, un po' più, non proprio l'ombellico del venture capital, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, è davvero a secondo posto, anche se riguardiamo i volumi in assoluto. Ci sono poi altri primati, come quello dell'Innovation Index, che sicuramente viene anche alimentato di questa intelligenza artificiale, perché è un settore che produce molti brevetti e patenti, e chi lo sa meglio, del World Intellectual Property Office. Quindi è proprio l'ufficio stesso che mette la Svizzera al primo posto, perché c'è questa densità di questi brevetti, dei patenti, degli intangibles anche. E i talenti, sicuramente questo è un dato che uno non si aspettava, è uno studio di Randstad che dice che è in sostanza la piattaforma più competitiva per quel che riguarda i talenti. E credo il mercato di lavoro lo rispecchia anche, con tassi di disoccupazione bassissime, dove le aziende quasi devono litigare per arrivare ai talenti. Quindi è un mercato che è molto dinamico, ma è un mercato molto vivo altrettanto. Altri numeriche che fanno impressione, anche quella della densità di aziende per capita. Riassomendo, direi, se io potrei raccomandare, dare un consiglio anche a un'azienda italiana, quali sono forse i driver più importanti, credo uno è l'approccio result driven, collaborare, non fare ricerca sviluppo fine a se stesso, ma ci sono progetti dove, per esempio, abbiamo l'agenzia InnoSwiss che conduce il progetto con un grande protagonista industriale e una startup. E questo fa sì che anche una startup ha la possibilità di inserirsi, di fare ricerca sviluppo non da solo, in maniera isolata. e questo abbiamo visto porta spesso alla commercializzazione effettiva dei risultati, perché cosa facciamo R&T se non per commercializzare questi risultati? E anche i cluster tradizionali, come saprete in Svizzera finanza sicuramente, Inchurtech, Fintech, ma abbiamo anche Health, abbiamo Medtech, farmaceutica, questi settori molto tradizionali, in qualche maniera alimentano anche la pipeline dell'ecosistema dell'intelligenza artificiale. Per poi forse atterrare sulle normative, normative molto snelle, pochissime, non c'è una complessità elevata e soprattutto ci sono delle normative che sono technology neutral, ci permettono di evolvere con la tecnologia, perché se abbiamo delle normative che sono correlate, collegate alle tecnologie e sono una questione di tempo che questi non sono più attuali. Quindi questo approccio molto pragmatico anche per quanto riguarda tutte le nuove tecnologie che emergono. Abbiamo detto nel titolo che parliamo di trends, quindi vorrei comunque ancora dare due chicche sui trends. Da una parte sull'investimenti e gli investitori, abbiamo qui nella grafica sinistra un campione di 220 investitori e dove vanno questi soldi? Vanno imprese in aziende dell'intelligenza artificiale in Svizzera, più del 40% e dove, in quale settore vanno esattamente ed è come in sostanza la panoramica che abbiamo visto prima. Di nuovo abbiamo l'analitica al primo posto e un po' più giù, forse anche sorprendente che la healthcare è solo uno degli ultimi posti, ma questo allo stesso tempo è un trend anche, dove vediamo chiaramente c'è forse già una saturazione tale nell'analitica che del mondo di cui parliamo domani è davvero il healthcare e il health. E infatti questo studio di DKE è molto interessante, ci dice esattamente che questi trends tecnologici saranno nella life science, saranno nella diagnostica, nella prognostica dei clinical trials, ma anche nei trattamenti, nei comportamenti preventivi e quindi questo in sostanza rappresenta anche le opportunità che abbiamo davanti alla porta e parlano addirittura di un mercato di 75 miliardi tutto quello che riguarda l'AI nel health tech. Ora, io posso solo confermare perché appunto ho visto anche già aziende start-up italiane che abbiamo accompagnato in questi mesi, aziende italiane che sono nel IA e nel health tech e in sostanza fanno diagnostica che in qualche maniera si assomiglia anche a questo modello di soffia genetic se non è addirittura un concorrente e li abbiamo messo di certo in contatto con i nostri colleghi rappresentanti degli uffici della promozione economica. Io vorrei lasciarvi i nostri contatti io ed Annalisa Ziniani siamo volentieri a disposizione anche per delle prime domande per guardare un progetto in maniera del tutto informale e mi raccomando oggi abbiamo anche qui con noi i cinque rappresentanti cantonali c'è la possibilità anche di forse in un secondo tempo poi di interloquire di fare delle domande nello specifico abbiamo qui con noi del canton Appenzell Ralf Lehner abbiamo Serge Palestrade del canton Vaud noi abbiamo Daniela Belezini della Greater Zurich Area abbiamo Elisa Nessi della Greater Geneva Berneria e Luca Nonella canton Ticino grazie grazie Stefan per averci avvicinati un po' di più al mondo dell'intelligenza artificiale in Svizzera continuiamo a farlo con il prossimo speaker Dr. Dumoulin will talk to us about what is making noise in the world of AI what are some trends to look out for and what are some challenges that we might face in the future so also touching on some ethical questions welcome Dr. Dumoulin the stage is yours thank you so so e abbiamo fatto l'intelligenza artificiale da l'inizio perché in realtà significa Istituto Dalle Mole di Intelligenza Artificiale Persettiva So it was created by an Italian entrepreneur Angelo Dalle Mole And today we are More than 150 employees We are covering 14 research groups So quite a lot of research areas We have also a dedicated R&D engineers group Which really helps to bridge the gap Between the academia and the industry We have some highlights of course Around what we have done Through those 30 years One of the biggest highlight for sure Is that we created Torch in 2001 And it became later the core of PyTorch Which is developed by Facebook Since 2014 Which is one of the biggest tool for researchers But also for industry To do machine learning Deep learning Today I would like to give you A small introduction about AI What is this The new trends that are around AI Not necessarily done at EDIAP But in the world And what are the challenges That we have to face So what is AI Of course it's not a technology It's many things It's at the core of those hype buzzwords for sure But many things are very interesting Very useful for the society Of course there is the machine learning Which is a subset of AI And the deep learning That is a subset of machine learning But what is for sure Is that at the very center Of all of it It's the data So I'm sure you have seen This picture Maybe several times It's really because the data Became the You know The gold For all those big companies And they understood that Very well And we will see that In the future In the next slides Data is at the center now And maybe All together We can build a future Where the human Is again In the center What is used For AI Of course When you think of AI You think of robots Sure Cars Autonomous cars Great But You are using AI In your everyday life Through free commander systems Social networks And certainly The most use of AI Is right In your pocket So it's something That you are used To use All the days AI is in your pocket In your smartphones Is it new No Absolutely not We can go back Back and back Even Way back Than the 50s But Really the first work Around AI Was done in the 50s Where the idea Was to make Intelligent machines Having the ability To achieve goals Like humans Then In the 60s The first work Around machine learning So Make the computer Able to learn Without being Explicitly programmed In the 80s First works Around neural networks So This brain Inspires computation And Today Is actually Quite A good Time In the year To speak About New trends In AI Because Actually 20 years Ago It was in May 20 years Ago Deep Blue Was Kind of The first AI Or at least Computer based System Able to beat An expert A human Excellence In some area It was Garry Kasparov A chess Champion And it was Really showing The world That Yes Computers Are coming And are catching up To human intelligence But why today Because It's kind of You know Trendy Those days Artists For the past 10 years Let's say Actually It's a unique Convergence Of several trends On top of 50 years Of research It's not something That you can do Like Okay We are Google Let's put A lot of money On the table And in one year We will Have something Outstanding No It's It's made possible Because of All the research That was done In the past 50 years But There is this Convergence Of trends Like on the Algorithmic Level Modeling Level But what Makes A big difference It's the Physical Level Okay Computational Power We discovered That GPUs Usually used To make Games Work It's actually Very useful For the kind Of computation That scientist Needs to do For doing Machine learning And deep learning We have storage Capacities And a huge Availability On data Thanks to the Social networks Of course The internet But the social networks Where people Generate Tremendous Amounts Of data And also Very important Is that Big corporations Did see Benefits Possibilities For them So they Invested A lot In the Last 10 to 15 years And It makes A big difference Okay Now that We have seen A small introduction About AI What are the New trends And here I'm not Presenting Again It's not EDIAP's Work But at EDIAP We are also Using Those Exciting Models Systems To capitalize On it Modify them And make Something out Of it Interesting For What we Want to do The first One I want To talk About is Object detection It's not New But it's Really a Starting point For me To show You That It's not Something That You Know Was created In one Year It's Actually More than 20 years Of hard Work Of research So Public Scientific Publications Are represented Here On this Graph So you Can see That It's A long Term Work And of Course There Is More And more Interest And it's Why We have More And more Efficient Models So here You can See An example Of phase Detection That's Working Very Well For Quite Some Times Now You Have Here An Example YOLO So you Only Look Once It shows That It's Crazy When I Did my PhD In Computer Science In Mansfield Learning In 2012 It was Unimaginable To have This Language Language Understanding This Is An Example GPT-3 So it Was State Of The Art For A Long Time It Was Developed In 2020 By A Company Called Open AI It's An Autoregressive Language Model That Use Deep Learning To Produce Human Like Text And It's Crazy The Numbers Of Parameters It Shows That The Number Of Parameters Kind Of Double Each Six Month All Right That's Crazy And What Is Interesting That It's Now Difficult For Us To Say Is It A Text Produced By A Human Or By An Artificial Intelligence And That's A Bit That's Crazy In 2022 So This Year Google Released Palm An Even Bigger Model To Do The Same Things 540 Billions Parameters It's Kind Of A Trend You Know The Bigger The Better These Models That You Can Even Explain Jokes And Even Explains Anti Jokes So You Give Anti Jokes To The System He Is Able To Make The Links To Understand Okay It's Not A Joke And This Is What Makes It A Joke Quite Interesting But It Can Do Many Things Like For Instance Auto Generating Code If You Are Developer And Actually One Week Ago It Shows That It's Really A Trend One Week Ago Meta So Facebook Did Release A New Large Language Models Which Is Called OPT What Is Really Interesting Here Is That Unlike The One From Open AI They Open It To The Researchers So They Want To Foster Responsible AI Reproducible Research And Responsible Compute And That's Very Interesting Another Example That I Think It's Quite Fun It's The Image Generation That Was Made By DALI 2 Another Work Of Open AI So You Can Give A Textual Description To The Machine And The Machine Will Produce Artificially An Image Some Examples Directly Taken From The Website Of DALI 2 Teddy Birds Mixing Sparkling Chemical Asthma Scientist As A 1990s Saturday Morning Cartoon And Boom This Is Completely Artificially Produced And It Can Give You Another Sample You Know You Do The Same Just Changing The Style In A Steampunk Style And That's It You Have Something Pretty Convincing You Can Have Things Like Bit Of Crazy You Know An Astronaut Riding A Horse In A Photography Style On The Moon Or As A Pencil Drawing And This Is Completely Artificially Generated It's Crazy This Is The Kind Of New Trends We Cannot Cover Today All The Trends Of Course But It's Just An Overview What I Think Interesting And Important Is To Think Of The Challenges And There Are Too Many Of Them Fairness Responsible AI Human Trust In AI And So On So Many Things To Cover To Really Think Of Okay AI Is I Choose To Speak Of Three Today Very Briefly The Cost And Energy Consumption Of AI Become To Be Yeah It Became Crazy We Can See A New Era Starting Around 2016 It's Post Deep Learning Era It's The Large Scale Era And The Computation Power Needed Is Improving Exponentially This Is A Big Problem Because Of Course Behind That You Have A CO2 Impact Of Course If You Are Google If You Have The Money You Can Take The Money To Build Solar Based Energy Power Plants And Minimize The CO2 Impact But It's Very Important To Understand That AI Nowadays Cost A Lot For The Planet Cost A Lot Also In Money So I Found A Blog Post So Not The Perfect Numbers You Know But It Gives You An Idea To Train Palm The Model That I Just Showed You It 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 Cost You Around 10 To 20 Million Dollars If You Are Not Google Of Course Google They Have The Computer Power If You Are Not Google It Will Cost You Quite 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 A Lot Of Money And It Becomes A Problem For Us On The Academic Side Also Because We Cannot Compete Anymore With Such Power Required But Not Everything Goes In The Wrong Direction For Instance In 2016 DeepMind Did Help Google To Reduce The Cooling Bill By 40% So AI Can Also Be Used To Go In The Right Direction Another Thing That I Want To Address Here Is That For SMEs It Is Very Complicated Okay You See Those Huge Model Large Language Models Image Generation Object Detection And So On And So On But Where Do You Start There I Don't Think So So You Need To Talk To Experts But For Doing This First Focus On Your Problems The Problems That You Want To Solve Then Talk To The Specialist You Will Need Them As Much As They Will Need You It A Matter Of Discussing Collaborating Do Not Underestimate The Time Needed To Achieve Results AI.exe It Doesn't Exist You Have To Go Step By Step And Finally A Good Way To Ensure That You Will Improve The Project Life Cycle Is To Internalize The AI Competencies So To Create Collaborations There Are Tools We Heard About It Previously Inno Suisse For Instance And Nowadays It's Very Interesting For SMEs Because There Are Some Favorable Conditions And There Is Also Another Tool That We Created At EDIAP It's A Master In Artificial Intelligence Integrated Into The Companies So You Hire A Student He's Not A Student Anymore He's Your Collaborator Half Of The Time He Will Study Online He Will Get Trained By Experts In Artificial Intelligence And Half Of The Time He Will Work On Real Tasks For Your Company So At The Same Time You Develop Something And You Take The Time To Develop Your Artificial Intelligence Future One Use Case Isah A Swiss SME So They Are Making Machines That Makes Almost 60% Of The Tubes For Cosmetics For Toothpast And So On They Had This Aesthetic Control Of Welding On Laminated Products Problem And Thanks To This Master In AI They Were Able To Develop A Solution That Is Quick And Easy To Integrate And And They Are Happy With It And The Student That They Hired Is Now The AI Guy And They Built A Team Around It And One One The Last Challenge That I Want To Address Here Is The Acceptance By The Society We Are Used To AI Even Though We Are Not Always Sure That We Are Using AI We Don't Know All The Time But It's Important That People To Shape The Future Of This Society Boosted By AI It's Important Also For Us Researchers To Educate People To Talk With Them To Address The Challenges And This Is An Example So We Created A One Year Exhibition In A Museum The Musée De La Main In Lausanne Where We Show Interesting Demonstrations So To Start The Discussion With The Audience And It Is Very Important To In This Direction To Talk With Everyone And This Is Coming Back To The Roots Of Idiop Angelo Dallemolet Said Scientific Progress In General And Progress Made In Computing In Particular Should Not Enslave Man But On The Contrary Be At His Service So It Is Really A Matter Of Putting The Human At The Center And Having Artificial Intelligence Computers Science To Help The Human And Not Having Humans To Adapt To The Machines And This Is A Very Small Overview Of What We Are Doing At EDIAP Trying To Go In This Direction Of Course We Have Also Collaborations With Industry That Does Not Fit To Vision But It Is Important That We Keep Going In This Direction So Just A Few Examples Assisting Robots For Elderly Or Disabled People Help To Diagnose Autism In Children And Accompany Them Automatic Sign Language Recognition Technology Speech Analysis For Early Detection Of Neurogen Degenerative Diseases Classifying Neurons For A Better Understanding Of Stephen Hawking Disease Bias Mitigation So Furnace And Responsible Dataset Creation For Biometric Proposes AI Based Stimulation Tool For District Intim Network And Many More Exciting Projects So If You Want To Know More About Our Work Don't Hesitate To Contact Us Thank You Very Much Thank You Very Much Dr. Dumoulin For Your Insights I'm Sure There's A Lot That We Can Take Away From Your Presentation And As I Said Before You Will Have A Chance To Interact With Him And Ask Your Questions When We Go For The Apera Which I See Is Being Set Up So Moving On But Staying On The And Collaboration Con Le Aziende Con Qualche Ottimo Esempio Di Partnership Tra Istituto E Impresa Lascio La stage A lei Grazie Grazie Mille Grazie Mille Per La Presentazione Voglio Ringraziare Anche Joelle Per Aver Delineato Ottimamente Il Contesto Quello Di Qui Parlerò Io Perché Mi Ha Permesso Permetterà Di Ricollegarmi A numerosi Degli Esempi Che Ha Fatto Adesso Aspettavo Un attimo Che Devo Capire Come Funziona Sto Parecchio Ok Ah Questo Ero Io Ecco Questa È La Mia Prima Slide Ma L'Istituto Delle Molle Su Intelligenza Artificiale È Il Nome Dell'Istituto Che L'onore Di Dirigere E La Prima Cosa Che Sottolineo Che È Un Istituto Congiunto Usi Subsi Usi È L'Università Della Svizzera Italiana Questo È Il Tipico Sistema Svizzero E Tedesco Dei Due Percorsi Le Università Classiche E Le Università Dei Scienze Applicate E In Svizzera Aizia Credo Che Sia Forse L'unico Esempio Di Istituto Comune Fra Le Due Istituzioni Noi Abbiamo Una Bellissima Location L'aveva Fatto Vedere Anche Joelle Della Sua Bella Location Ma Anche Noi Non Scherziamo Come Vedete Qua È Il Golfo Di Lugano Noi Siamo Con La Nostra Nuova Sede Tipo Qua Comunque Molto Vicini Al Lago In Queste Belle Giornate Speriamo Di Riuscire Andare A Fare Qualche Puntatina Devo Controllare Che Sevolte Oggi Ecco Angelo Dalle Molle È Conosciuto Sicuramente Da tutti Perché Lui Ha Creato Il Cinar Un famoso Aperitivo A base Di Carciofo Contro Il Logorio Della Vita Moderna Ricorderete Lo spot Con Ernesto Calindri Nel Traffico E Forse È Stato Anche Quella Sua Era Amico Di Calindri Proprio Erano Amici Perché Si era Creato Un Rapporto Molto Bello Questa Persona Travolta Dal Traffico Che Gli Ha Fatto Pensare Che A un Certo Punto Doveva Fare Qualcosa Per Cambiare La Società Che Si stava Creando E Quindi Lui Ha Costituito Nel 71 In Svizzera La Fondazione Dalle Molle Per I Studi Linguistici Che Poi Ha Creato Tre Istituti Di Ricerca Isco A Ginevra I Di A Martigny E Izzia A Lugano Izzia È Stato Fondato Nel 1998 Quindi Un paio Di anni Prima Di IDIAP Ma Una Cosa Interessante Che Non Molti Sanno È Che Dalle Molle Nel 70 Aveva Iniziato Ad Avviare Progetti Per La Diffusione Delle Auto Elettriche Basate Sul Concetto Di Car Sharing Quindi Decisamente Un Visionario E Come Aveva Ben Detto Joël Il Concetto Dalle Molle Era Una Intelligenza Artificiale Negli anni 80 Pochi Ne Parlavano Che Fosse A Servizio Dell'uomo E Quindi Questo Noi Cerchiamo Di Realizzarlo Con Il Nostro Istituto Di Ricerca E In Particolare Come Dicevo Prima Un Istituto Di Ricerca Congiunto Con Professori Che Sono Attivi Sia Presso L'Università Che Presso L'Università Di Scienze Applicate La Subsi E Lusi Siamo Più Di 60 Ricercatori Anche Più Di 40 Studenti Di Dottorato E Un Po' Come Idiapa Anche Noi Forniamo Un Ponte Fra La Teoria Le Applicazioni E Perché Abbiamo Una Certa Rilevanza A Livello Mondiale Perché Presso Istia Nel 2010 Abbiamo Iniziato A Sfruttare I Risultati Di Una Ricerca Che Era Partita Negli anni Novanta Come Joel Che Citerò Tantissime Volte Oggi Aveva Mostrato Quella Vi ricordate Quella Progressione Che Aveva Portato A Quel Modello Di Riconoscimento Dei Volti Che Era La Ricerca Di Moltissimi Anni Questo Algoritmo Che Anticipo Una Slide Lo Trovate Sui Vostri Telefoni Perché È Implementato In Google Voice È Sato Inventato In Cantontici Negli anni Novanta E Perché Negli anni Novanta Al 2010 Non è successo Niente Perché Sostanzialmente Non c'era Ancora L'infrastruttura Hardware Che permettesse Di implementare Questi modelli Queste reti Neurali Profonde Che Adesso Sono Talmente Diffuse Che Le troviamo Davvero Sui Telefoni E Per Questo Motivo Il CEO Di NVIDIA Che È Il Maggior Produttore Mondiale Di GPU Graphical Processing Units Che Come È Già Stato Detto Erano state Progettate Originalmente Per Far Funzionare Dei Videogiochi Ma Il Ricercatore In Capito Che Potevano Essere Utilizzate Per Le Ricerche Per L'implementazione Parallela Di Queste Retti Neurali Profonde Ha Messo Il Logo Dell'Izia Attraverso Assieme Scusate Altre Istituzioni Qua Abbiamo Stanford Berkeley Carnegie Mellon MIT New York University Oxford Toronto Insomma Ci sentiamo Anche In Imbarazzo Essere Vicina A Queste Università Visto La Nostra Dimensione Ok Inoltre Il nostro Istituto È Anche Un Trampolino Noi Lo Vediamo Anche Come Una Missione Quella Di Formare Giovani Ricercatori L'esempio Più Clamoroso Se Volete Quello Di Shane Legge Un'azienda Che è Stata Nominata Deep Mind Acquisita Da Google Per 500 Milioni Di Dollar Se Deep Mind Produce Scoperte Rivoluzionarie Nel settore Dell'AI Con Una Frequenza Impressionante L'ultimo È Alpha Fold Un Programma Basato Di nuovo Su Rete Neurali Profonde Che Permette Di Prevedere Il Ripiegamento Delle Proteine Questo È Una Tendenza Interessantissima Nel Settore Dell'AI Come Aveva Detto Anche Stefan Prima Che Le Applicazioni Nel Settore Health E Medico Saranno Sempre più Importanti Il Capire Come Si Ripiegano Le Proteine È Fondamentale Per Progettare Dei Farmaci Personalizzati Che Sicuramente Rivoluzionaranno La Tecnica Farmaceutica Come La Conosciamo Oggi Quindi Siamo Stati Riconosciuti Dalla Swiss ICT Award Come Un Istituto Che Favorisce La Cooperazione Fra La Ricerca E L' Impresa E Questa È Una Cosa Della Quale Andiamo Particolarmente Fieri Qua Vedete In questa Cerimonia Premiazione Jürgen Schmid Uber L'inventore Della LSTM Long Short Term Memory E Luca Gambardella Che Avete Avuto Il Piacere Di Avere Qui Qualche Giorno Fa In Un Evento Presso House Switzerland Attualmente È Nostro Professore Presso Izzya È Stato Direttore Per Tanti Anni Prima Di Me Ed È Attualmente Pro Rettore Per L'Innovazione Università Della Svizzera Italiana Ok Adesso Io Brevemente Vi faccio Vedere Alcune Delle Aree Di Ricerca Sulle Quali Siamo Attive Ci Siamo Recentemente Organizzati In Alcune Are E Abbiamo Machine Learning Chiaramente Che ha Dentro Tutto Un Sacco Di Cose Quindi Sia Le Deep Neural Network Ma Anche Causal Inference Probabilistic Graphical Network Bayesian Network Un Sacco Di Approcci Deep O Anche Approcci Causali Perché Uno dei Trend Dell'intelligenza Artificiale È quello Di Fornire Spiegazioni La cosiddetta Explainability Che sta A valle Di Un Algoritmo Che Dà Un Risultato Se io Sono Un Medico Ne Parleremo Non Voglio Sapere Solamente Questo È Una Cellula Potenzialmente Cancerosa Oppure No Io Voglio Sapere Anche Perché Mi Hai Detto Questo Un Altro Area Nel Quale Siamo Attivi Ma Con I Problemi Di Cui Ha Parlato Joel È Il Natural Language Processing L'Information Retrieval Questi Grossi Modelli Del Linguaggio Che Sono GPT3 E Cetera Sono Per Noi Proibitivi E Quindi Dobbiamo Cercare Di Trovare Delle Applicazioni E Delle Aree Nelle Quali Riusciamo A Lavorare Con De Modelli Un Po Più Piccoli E Magari Contribuire Comunque Con Aspetti Di Ricerca Interessanti Un'altra Are Per Noi Molto Importante È Il Controllo Intelligente Di Sistemi In Rete Ma In Generale Il Controllo Intelligente In Collaborazione Uomo Macchina E Nel Quali Si Sfrutta Anche La Fisica Del Sistema Perché Di Nuovo Uno Delle Cose Stamattina In un'intervista A Joelle Ha detto Noi dobbiamo Fare Di Più Con Meno To Do More With Less E Un Metodo Per Fare Di Più Con Meno E Non Buttare Via Tutto Quello Che Noi Conosciamo Dalla Fisica Ma Cercare Di Integrare Rete Neurali E Fisica E Questa È Un'area Nella 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 I nostri Ricercatori Si Stanno Molto Impegnando La Robotica Autonoma È Sicuramente Un'altra Area Per Noi Molto Importante O Qualche Filmatino Sui Nostri Mini Droni Nano Droni E Poi Ci sono Are Di Ricerca Un po' Più Di Base Geometric And Visual Computing Algorithm Theory Che Sicuramente Sono Importanti Per Alimentare Con Nuove Idee La Ricerca Applicata Come Sto Andando Con Il Tempo Penso Sono 5 Minuti Ok Quindi Sarò Velocissimo Sulle Parti Applicative Abbiamo Un'area Che Si occupa Di Industria Logistica La FinTech La Salute E L'Energia L'Ambiente Vi faccio Vedere Il FinTech Vi posso dire Solamente Poco Abbiamo Una Collaborazione Con UBS E Purtroppo Per Il nostro Tipo Di Relazione Non posso Dirvi Quello Che Facciamo E Posso Solamente Dire Che UBS Ci Permette Di Dire La Fairness Dei Dati Perché Uno Dei Problemi Che Ci Sono Stati E Sono Noti E Sono Purtroppo Ancora Adesso Presenti È Il Fatto Che All'interno Di Larghe Moli Di Dati Che Vengono Raccolte In Tantissime Maniere Legittimo O Questi Dati Sono Nascosti Dei Bias Delle Polarizzazioni Polarizzazioni Che Non Sono Facili Di Distirpare Dei Su Questi Dati Siano Fair Rispetto A Questioni Che Possono Essere La Razza Il Credo Religioso Il Sesso Di Una Persona L'età Tutte Queste Cose Qua Perché La Fairness È Un Qualcosa Che Diventa Sempre più Importante Per Le L'analisi Di Immagini Biomediche Abbiamo Vinto Diverse Competizioni Internazionali Su Questo Una Decina D'anni Fa Quando Pochi Lo Facevano Adesso Lo Fanno Tutti E La Sfida Sarà Quella Della Explainability Spiegare Il Perché Abbiamo Fatto Una Determata Diagnosi Perché L'algoritmo Che Dice Sì No Non Può Essere Un Valido Collaboratore Di Un Medico Poi Come Dicevamo Dato Ai Dati Clinici Ma Anche Natural Language Processing Perché Un Progetto Su Quale Abbiamo Lavorato E Per L'estrazione Di Conoscenza Da Corpus Accademici Di Pubblicazioni Scientifiche Nel Settore Medico Qualcuni Partner Nel Settore Industriale Abbiamo Collaborazioni Con Numerose Aziende Svizzere Di Massimo Livello Per Quello Che Riguarda L'ottimizzazione I Loro Processi Ma Soprattutto L'integrazione Come dicevo Di Conoscenza Sulla Processo Conoscenze Fisiche E Integrazione Di Tecniche Di Intelligenza Artificiale Per esempio Nell'analisi Del E Nella Progettazione Di Sistemi Ottimali Per Il Taglio Laser Eccetera O Per Macchine A Elettro Erosione Come In Questo Caso Con Georg Fischer Un Altro Esempio Qui Che Vedete Il Processamento Automatico Di Immagini Per Altro Partner Lo Conoscerete Forse Per Cernire Lampo Di Alta Qualità Ok Poi Come diceva Anche Joel L'efficienza Energetica È Molto Importante Ed È Un Settore Nel Quale Si Può Fare Moltissimo Abbiamo Sviluppato Degli Algoritmi Che Permettono Per E Ridurre Il Picco Di Potenza E Distribuirlo In Maniera Smooth In Maniera Pulita E Quindi Migliorando Le Progetto Collaborazione GridSense Ma Ce ne Sono Ancora Molti Che Stiamo Facendo Con Le Aziende Elettriche In Svizzera Infine Un Paio Di Parole Su Quello Che Facciamo Nel Settore Robotica Autonoma Questo Non so Adesso Se Partirà Vediamo Questo Video Forse Così No Niente Va Sono Purtroppo Uscita La Presentazione Vediamo Se Vabbè Ci sarebbe Stato Quello Che Volevo Farvi Vedere Adesso Non so Se Magari Potete Aiutarmi A Ripartire Era Che Abbiamo Sviluppato Un Sistema Che Permette Di Interagire Con I Droni Puntando Il Dito Anziché Usare Un Joystick Al Drone Si Dice Guarda Vai Lì Vai Lì Oppure Sali Su Vai Giù Vai Destra Sinistra Questo Nell'ottica Di Una Più Stretta Collaborazione Fra Uomo E Macchina Perché Una Cosa Che Cercheremo Di Fare Anche Nel Contesto Di Applicazioni Industriali Permettere A Un Uomo Di Interagire Con Un Roboto Anche Con Una Catena Di Montaggio Con Era solo Per farvi Vedere Questo Tipo Di Applicazione Passiamo Pure Alla Prossima Alla Prossima Slide In Cui Abbiamo Adesso Un Progetto Di Ricerca Attivo Nella Quale Abbiamo Dei Nanodroni Che Hanno Presso Poco Queste Dimensioni E La Sfida È Mettere Un Algoritmo Che Ha Una Rete Neurale Profonda Su Un Chip Così Piccolo Perché Le Droni 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 Molto Leggeri Che Possono Essere Anche Spesi Rispetto A Droni Più Costosi E Più Grossi E Quindi Questo È Un Altro Aspetto Della Nostra Ricerca Che Vediamo Molto Promettente Bene Possiamo Andare Alla Prossima Slide E Concludo Anch'io Dicendo Che Il Dialogo Con La Società È Un Qualcosa Di Molto Importante Per Quello Che Sono Gli Aspetti Etici D'intelligenza Artificiale E Quindi Anche Noi Abbiamo Un Programma Di Master Simile A Quello Che Offre ID App Quindi A Seconda Di Dove Sta Lo Studente Può Trovarsi Meglio In Vallese Piuttosto Che In Ticino O Piuttosto Che A Zurigo Anche Lo Swiss Data Science Center Ha Un Programma Di Questo Tipo In Cui Uno Studente Può Essere Impiegato Al 50% D'azienda Al 50% Dall'Università Una Cosa Molto Interessante Che Se Un' Azienda Vuole Assumere Un Esperto Di Data Science Machine Learning Fa Fatica A Ottenerlo Perché Sono Rarissimi E Le Persone Veramente Brave E Le Persone Veramente Brave Vogliono Andare In Centri Ricerca Di Eccellenza Quindi È Più Facile Che Accetti Un'offerta Di Impiego Dove Magari Lavora Presso Di App Presso Lo Swiss Science Center Presso I Zia E Che È Impiegato Presso L'azienda Perché Se No Il suo curriculum Non Adesso Senza Nulla Togliere Le Migliori Aziende Che Ci Sono In Giro Il Mondo Non È Un'azienda Che Fa Un Prodotto Farmaceutico Non È Un'azienda Fa Machine Learning E Le Swiss Data Science Center Sia Una Soluzione Molto Interessante Per le Ziende Che Vogliono Ottenere Queste Competenze E Far Crescere Il Proprio Personale Quindi Io Finisco Con Un po' Di Ritardo Vi Ringrazio Per L'attenzione E Questo È Tutto Grazie La Ringrazio Grazie Professor Rizzoli Siamo Così Giunti Alla Fine Dell'evento Ringrazio I Nostri Speaker E Tutti Voi Per La Presenza Anche Coloro Che Sono Giunti Tramite Live Stream E Vorrei Allora Dare Inizio All' L'aperitivo E Le Speaker If You Could Maybe Stay Here For A Second And We Just Take A Picture Grazie Ancora E Buona Serata Speaker To 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.